ciao a tutti i ragazzi, il video che porterò oggi sul mio canale youtube è un gioco di corsi, è simile al video precedente però stavolta con questo personaggio, altra volta con la macchina amore col personaggio a 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 canale youtube lo sapete che è gratis quindi l'iscrizione è libera e ci vediamo come sempre al prossimo video seguitemi su su instagram e ciao ciao al prossimo video però è una cosa la 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 l Grazie a tutti